Forse benvenuto a Bari Benvenuto, veramente benvenuto perché c'è una... Allora io l'ho detto ragazzi, è la prima volta che ho visto una cosa nel cielo secondo me c'erano almeno 2-3.000 persone alle 6.30-7 ma ovviamente non sono riuscito ad entrare tutto quindi li invitiamo in questi giorni, io sarò qui fino a domenica almeno e quindi un'accoglienza sembrava l'interesse dello stadio San Nicola il giovedì ci sarò anche io, l'ho detto a fare il tipo quindi grazie a tutti quelli di Bari ma anche della provincia grazie a tutti i paesi, grazie a voi che siete arrivati in chiusura però vedete che a quest'ora è stata mezzanotte e ancora mezzanotte quindi grazie veramente a tutta la città di Bari e anche la provincia